ciao a tutti e bentornati alla bc del football oggi parliamo di qual è il giocatore più sottovalutato per ogni squadra iniziamo dicendo che all'inizio quando mi è venuto in mente di fare questo video pensato ma sì dai che cosa divertente vedevo questi questi queste famose pagine blog che parlavano di questi giocatori sottovalutati pensavo ma sì è divertente diciamo la nostra beh me ne sono pentita amaramente perché all'inizio ok iniziavo con quelli che mi venivano in mente in alcune squadre avevo anche più scelte quindi dovevo scegliere una ero contenta poi sono arrivata man mano alla fine e ci state delle squadre in cui io davvero non avevo idea di chi mettere perché ovviamente ho iniziato mettendo un paio di regole prima di tutto il giocatore deve essere sottovalutato il che vuol dire che non posso pensare di mettere come ho visto in alcuni blog giocatori forti che però secondo me sono ancora più forti cioè non posso mettere che per i Packers il più sottovalutato è Aaron Rodgers perché secondo me Aaron Rodgers è ancora più forte di quello che si pensa no no volevo comunque i giocatori di cui non si parlasse abbastanza e poi volevo dei giocatori abbastanza conosciuti relativamente quindi non voglio andare a dire che c'è quel giocatore che ha giocato 5 snap l'anno scorso e che da quello che si è visto allora sarebbe in grado di giocare se solo potesse giocare no comunque sto parlando di titolari sottovalutati e non ce ne sono questi tanti per alcune squadre come si potrebbe pensare perché ci sono delle squadre che davvero sono magari ricche di talento e sorprendentemente sono proprio quelle ricche di talento che sono state più difficili e alcune di queste squadre davvero mi hanno mandato mi hanno fatto impazzire contate che sono sulle ultime 4 squadre da diversi giorni adesso stamattina ho cercato l'ultimo disperatamente ma questo video è durato come preparazione ben più del mio solito ben più di quello che ero disposta a metterci comunque buon per me che sono arrivata alla fine ultima regola non ho messo di rookie perché non abbiamo mai visto giocare i rookie in NFL quindi i rookie sono secondo me tutti sottovalutati per il fatto che nessuno sa esattamente come giocheranno quindi non puoi mai avere le aspettative altissime su rookie perché non l'hai mai visto giocare e quindi non è giusto metterceli quindi andiamo in ordine partiamo dall'NFC partiamo dall'NFC West gli Arizona Cardinals per gli Arizona Cardinals ho pensato di andare in difesa e ok essere giocatori sottovalutati andremo spesso in difesa e qualche volta su nelle trincee perché sono giocatori che oggettivamente prendono meno visibilità di quello che ci aspettiamo di quello che si meritano ok quindi per i Cardinals Jalen Thompson un giocatore che è decisamente sottovalutato perché ha di fianco Budda Baker e quindi nessuno lo considera perché c'è Budda Baker e sicuramente il fatto che abbia un compagno di squadra così di così alto livello lo aiuta molto però è un mostro nel placcaggio davvero la testa c'è è arrivato secondo in placcaggi non assistiti in placcaggi solitari secondo PFF è molto buono in copertura ha una percentuale di concessi del 67% quindi secondo me è una gran parte della difesa del secondario dei Cardinals e non se ne parla abbastanza i Seahawks i Seahawks sono i Seahawks non sono stati particolarmente complessi rispetto agli altri però la scelta secondo me può far arrabbiare diverse persone perché secondo me il mio giocatore più sottovalutato per i Seahawks è Jamal Adams un safety e Jamal Adams è passato ad essere estremamente sopravvalutato adesso ad essere sottovalutato quindi mi rendo conto che si può dire di tutto e di più su Jamal Adams ovviamente dovuto alla trade che è stata fatta dai Seahawks dovuto anche al contratto che gli ha dato è facile pensare che Jamal Adams sia sopravvalutato però se non contiamo il fatto che arrivi da due anni deludenti ma guardiamo il suo potenziale e quello che può fare nell'anno che arriva allora abbiamo davvero un giocatore che può fare molto un giocatore che se lo lasci sulla linea di scrimmage può davvero crearti il caos è un ottimo nel blitz e secondo me il fatto che il fatto che abbia giocato così male ai Seahawks in ultimi due anni perché non l'hanno usato nel modo giusto lo hanno spesso messo in copertura contro i slot e silver molto veloci e la copertura non è per niente il suo forte e gli hanno dimezzato i blitz nell'ultimo anno ha blitzato meno della metà rispetto agli anni precedenti e essendo come chiamato in molti meme blitz boy e poi gli dimezzi gli snap in cui va in pass rush è ovvio che la sua performance calerà i rams i rams sono stati una di quelle squadre che pensavo sarebbero stati particolarmente difficili insomma hanno vinto il super bowl tutti questi talenti e poi sono andata a prendere quindi leonard floyd stiamo parlando di un outside linebacker che dietro a grandi nomi secondo me si può perdere è comunque un giocatore ben considerato assolutamente però togliamo donald togliamo von miller secondo me comunque lui è un ottimo giocatore con questo supporting cast quindi questi giocatori intorno sicuramente ha potuto dare del suo meglio però contiamo che ha fatto davvero un buon anno secondo me il 2021 giocando quasi tutto l'anno o tutto l'anno con un'infortunio nella caviglia e comunque ha fatto davvero un ottimo anno una pressure del 13% è arrivato a quasi 10 sac 9,5 mi sono scritta alcune statistiche importanti è abbastanza buona in copertura però di sicuro lì può migliorare ma la sua capacità di andare oltre la offensive line secondo me è davvero non dico unica ma è davvero preziosa infine i 49ers per i 49ers rimango in difesa e vado a un defensive end e ok i 49ers a chi si pensa? si pensa a Nick Bosa e Nick Bosa è un giocatore eccezionale ok però di fianco a lui c'è Harry Karmstead che non è all'altezza di Bosa assolutamente ed è per questo che si perde facilmente è stato un giocatore che crea davvero molto bene la pressione però è stato poco costante negli anni quindi è per quello che non è considerato tantissimo però ha del potenziale davvero molto alto quando gioca bene lui gioca davvero bene NFC South e lì iniziamo da una squadra che credo sia una delle prime che ho coperto e sono i Saints per i Saints e ce ne erano diversi ragazzi perché ero molto intentata di metterci Michael Thomas però sono restia a parlare di infortuni perché chi lo sa Michael Thomas quando torna come torna Michael Thomas è uno dei migliori ricevitori in NFL? sì sì da sano sì come l'abbiamo visto anni fa adesso che è fuori da tanti tanti mesi chi lo sa come torna se torna e quindi sono andata in difesa lo so ragazzi che io adoro le difese però la difesa è anche sottovalutata se confrontiamo i giocatori delle difese rispetto a quelli dell'attacco quindi ho preso un linebacker ho preso Pete Werner un giocatore che mi piace tantissimo da quando l'avevamo visto al draft se vi ricordate quando avevamo parlato dei linebacker ha giocato un poco nel 2021 però ha dei giocatori intorno davvero molto forti quando ha giocato ha giocato molto bene ha concesso un passare di 84 che per un giocatore alle prime armi in NFL è davvero sicuramente un ottimo passare rating perché è piuttosto basso è un placatore davvero molto sicuro molto aggressivo e non può che crescere in una squadra come quella dei Saints e poi passiamo alla squadra che per me è stata la più difficile in assoluto i Buccaneers i Buccaneers sono stati un incubo un incubo per me non sapevo davvero dove andare guardavo e riguardavo pensavo l'offensive line non va bene perché l'offensive line dei Buccaneers è molto considerata guardavo in difesa vedevo nomi molto forti nomi molto famosi e non andavano bene a questo punto che posso andare a prendere e quindi sono andata a prendere Joe Tryon che è un edge rusher che ha giocato molto poco fino ad adesso che però visto che la squadra è andata avanti oltre Jason Pierre Paul giocherà di più secondo me l'anno prossimo e da molti è stato considerato come un giocatore che potrebbe avere la sua breakout season quindi che potrebbe fare il suo anno migliore andando avanti certo ha giocato molto poco però l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di draft sempre l'anno scorso e è un giocatore che secondo me è davvero molto molto potenziale è molto aggressivo è molto atletico e quindi secondo me specialmente in questa squadra può davvero far bene i Panthers i Panthers ero tentata di mettere Christian McCaffrey perché rimane il fatto che secondo me Christian McCaffrey è il miglior running back della Lega ma non l'ho messo per infortuni e perché comunque tutti siamo d'accordo che Christian McCaffrey è uno dei migliori della Lega e quindi ritorniamo all'esempio iniziale che ho fatto di Harold Rogers e quindi ho messo Jeremy Chin Jeremy Chin è un safety un safety che secondo me doveva vincere il defensive rookie of the year quando ha vinto Chase Young cioè l'anno scorso ed è ancora migliorato nel 2021 in una squadra dei Panthers che non è per niente adatta a sviluppare al massimo secondo me un talento Jeremy Chin sta facendo davvero molto bene è un placatore incredibile blizza in modo sicuro la copertura forse ha il suo ambito più debole ed è decisamente migliorato nel 2021 secondo me Jeremy Chin sarà un safety top 10 tra qualche anno e è lì per restarci i Falcons nei Falcons sono andata nell'offensive line perché nei Falcons si parla del fatto che l'offensive line non è delle più talentuose ed è vero però Jake Matthews è un giocatore che secondo me è solido in un offensive line che non è così solida ovviamente Matt Ryan ha subito 40 sac l'anno scorso che è tanto e sì forse Jake Matthews non ha avuto il suo migliore anno l'anno scorso però comunque ha raggiunto un voto di PFF di 71 è un giocatore sempre sano e non è dir poco ragazzi abbiamo visto queste offensive line forti forti però i giocatori non ci sono mai perché sono sempre fuori avere un giocatore affidabile costante e sano sull'offensive line secondo me è tanta roba scusate forse a volte divento fin troppo fin troppo gergale fin troppo amichevole quando parlo però vabbè andiamo avanti NFC East gli Eagles gli Eagles sono una squadra che secondo me è davvero molto interessante guardiamo gli Eagles avranno un anno davvero con altre aspettative davanti l'offensive line degli Eagles è una delle migliori offensive line che ci sono adesso però questo giocatore che vi tiro fuori non è esattamente il giocatore che viene in mente se pensiamo all'offensive line degli Eagles vi parlo di Jordan Mailata un giocatore che è stato preso al settimo anno del 2018 settimo round un giocatore che giocava a rugby un giocatore assolutamente con pochissima esperienza che aveva un enorme progetto un enorme progetto che è stato costruito davvero molto bene è esploso nel 2021 che è stato il suo secondo anno ma il primo anno in cui si è fatto davvero vedere è stato piuttosto solido nel 2020 nel 2021 ha avuto un voto di PFF di 87 e quasi 88 nei blocchi per la corsa sappiamo quanto sia importante la corsa per l'Eagles secondo me stiamo parlando di un franchise tackle preso al settimo round e quindi underwriting necessario i Cowboys i Cowboys sono stati divertenti perché sono stati una delle prime squadre che ho inserito perché secondo me bisogna parlare di Ezekiel Elliott un secondo Ezekiel Elliott ha fatto degli ottimi anni poi ha avuto il grande contratto e poi non ha più fatto degli ottimi anni però comunque secondo me Ezekiel Elliott ci ha fatto vedere un buon anno magari sì non è all'altezza di quello che abbiamo visto però un buon anno ha superato le 1000 yard corse è un bloccatore eccezionale come running back però ha giocato la stagione scorsa con diversi infortuni e quindi questo lo ha limitato tantissimo però secondo me davvero togliendo Ezekiel Elliott dalla top 10 sbagliamo secondo me molti lo danno magari posizione 11 12 e secondo me merita di essere più in alto è il miglior run invece che in NFL no però davvero oltre a essere sottostimato è anche overhated quindi troppo odiato dovuto ovviamente a quel contratto che gli è stato dato continuiamo in NFC East parliamo dei Giants e i Giants non sono stati semplici perché io davvero volevo metterci Daniel Jones però non mi fido così tanto io sono convinta che Daniel Jones abbia una potenzialità superiore a quella che abbiamo visto fino ad adesso ma siccome è questione di abbastanza comune innanzitutto quindi non è non è eccessivamente sottovalutato per quello e poi io non lo so effettivamente quanto in alto possa arrivare Daniel Jones specialmente dopo tutti questi anni con i Giants quindi mi aspetto che Daniel Jones faccia meglio quest'anno sì non abbastanza meglio da inserirlo da sentirmi sicura di me stessa mettendolo in questo video e quindi sono andata a cadere gli ostoni che come scelta forse è ancora più difficile da spiegare perché quando i Giants hanno preso cadere gli ostoni al primo giro l'anno scorso io non ero per niente convinta assolutamente perché pensavo che loro dovessero andare sull'offensive line e ne sono convinta tuttora che avrebbero dovuto andare sull'offensive line però Caterius Doni secondo me è un wide receiver per quel poco che ha dimostrato come talento di wide receiver molto superiore a quello che io mi aspettassi cioè secondo me ha davvero un potenziale da Elite Caterius Doni abbiamo visto poco e ci sono molti altri problemi prima di tutto gli infortuni perché santo cielo si fa male con nulla e secondo problema il suo carattere era già arrivato con problemi comportamentali al college e non se ne sono andati per niente non è la persona più seria che c'è e New York probabilmente non lo aiuta però come talento di wide receiver c'è poco da dire io sono rimasta molto impressionata da quel poco che abbiamo visto di Caterius Doni infine parliamo dei Redskins nuovi commanders e parliamo della defensive line la defensive line è fatta da tantissimo talento hanno preso tantissimi giocatori al primo round hanno deciso proprio di investirci tutto quello che avevano e hanno fatto bene hanno un'ottima defensive line a Washington tuttavia secondo me si parla meno di Jonathan Allen rispetto che di altri giocatori di cui che non non faccio nome però tutti sappiamo di chi sto parlando e non è un peccato perché Jonathan Allen secondo me è il cuore di questa offensive line ha giocato molto bene negli ultimi due anni con dei voti di PFF che superavano gli 80 sia quest'anno sia l'anno scorso una bella produzione in sac nonostante i giocatori intorno a lui fossero spesso infortunati e oltre a quello è un leader è un giocatore che è pronto a prendersi a colpa anche quando oggettivamente la colpa non è sua però mi ricordo quando i Commanders avevano ricevuto tantissime yard e corse forse dai Colts e si è preso completamente la colpa perché oggettivamente la D-Line aveva fatto male ma secondo me lui era stato decisamente il migliore in quella partita lì credo che fossero i Colts è possibile che fossero i Titans comunque NFC North i Packers per i Packers ho chiesto anche consiglio a un a un ragazzo salutiamo Onizuka che ti fa Packers e che mi ha dato risposte completamente diverse dalle mie e mi ha messo ancora più in crazy quindi ho deciso di ignorarlo completamente finta di non avergli mai chiesto niente e di ritornare alla mia prima opzione ossia AJ Dillon un running back un running back che è stato poco considerato perché avevamo già Aaron Jones in squadra e a cosa serve un altro running back c'è Aaron Rodgers che è così forte e abbiamo bisogno di wide receiver però è un running back che ho utilizzato anche come ricevitore comunque una media ha avuto una media nell'ultimo anno di 9 yard per catch che è davvero tanto per un running back contatti che un running back in genere magari fa quelle 4 5 yard quando è un running back barra ricevitore 9 è davvero tanto è ovviamente molto buono nella corsa ha fatto 800 yard dell'anno scorso con un offensive line che non era sana e non essendo running back 1 quindi secondo me è un giocatore validissimo che non si considera molto quando si parla dell'attacco dei Packers i Bears i Bears sono stati difficilissimi perché guardavo questa squadra e pensavo ok ci sono i nomi forti ma non posso mettere Rock 1 Smith ci sono i nomi che hanno molto da provare e lì non sono così sicura non mi sentivo di metterci Justin Fields un po' perché non mi piace mettere i quarterback infatti credo di averne messo solo uno due e quindi ho deciso di mettere Darnell Mooney una scelta forse in queste liste di giocatori sto valutati abbastanza comune un giocatore che è stato preso al quinto giro nel 2020 un giocatore che però è riuscito a raggiungere i 1000 yard nonostante la squadra che avevano i Bears l'anno scorso un 1000 yard e non vi parlo di 5 yard qui 6 yard la e quindi veniva usato su lui per quello che ha raggiunto le 1000 yard ma aveva una media di 13 yard per presa che è decisamente un buon un buon risultato e questo nonostante nel passaggio secondo la quantità di yard fossero trentesimi i Bears nella Lega quindi davvero ha dato tutto quello che poteva e secondo me si è visto tanto PFF gli ha dato un voto mediocre ma sul mediocre e sul buono gli ha dato quasi 75 che è abbastanza buono i Vikings i Vikings non erano non erano facili la tentazione di mettere Cousins c'era ma i i tifosi e i Vikings sono talmente divisi su Cousins che Cousins è allo stesso tempo sottovalutato e sopravvalutato probabilmente e quindi evitiamo evitiamo questi problemi chi ho messo ho messo Harrison Smith e lasciatemi spiegare io lo so che Harrison Smith è un ottimo safety e che da molto è costitato un ottimo safety ma è stato snobbato nelle top 10 dei safety e è strano perché è un safety estremamente versato cioè per me è totalmente top 10 può essere strong safety e free safety è in grado di fare il suo meglio in ogni formazione ok magari non è il migliore se prendiamo un particolare tipo di formazione un particolare tipo di schema però se cerchiamo qualcuno che può essere messo ovunque questo è Harrison Smith i Lions i Lions io tutte le volte vi dico che riesce a sui quarterback Goff è estremamente sottovalutato siamo passati a Goff franchise quarterback dei Rams che li ha portati al Super Bowl a Goff a schifo non vale neanche che sia in NFL e fidatevi è una cosa che mi è stata detta è ridicolo secondo me Goff è molto superiore a molti altri quarterback di cui stiamo parlando non è top 10 ok è superiore a molti altri quarterback che ci sono in questo momento in NFL quindi non potendo mettere Goff ho deciso di andare sull'offensive line ok l'offensive line di Lions è molto buona e parliamo di Taylor Decker che è un fenomeno nella pass protection che non è considerato però quando parliamo dei migliori offensive linemen della Lega probabilmente perché fa parte di Detroit perché l'offensive line è in generale molto buona lì e quindi nessuno la guarda non lo so però è sempre snobbato e è un nome invece che secondo me dovrebbe rientrare passiamo in AFC AFC West da chi partiamo? partiamo dai Chiefs i Chiefs avevano diversi nomi che si potevano considerare ho deciso di andare in difesa ho deciso di parlare di Nick Bolton un linebacker sapete che è un debole per i linebacker però secondo me ovviamente non ha fatto un anno perfetto il suo primo anno in NFL non poteva essere perfetto però guardate che secondo me ha fatto vedere tanto potenziale una macchina da placcaggio aveva gli occhi sulla palla riusciva a riconoscere le traiettorie quando vedeva un placcaggio in generale riusciva a placcare bene avete presente quando un giocatore placca male e perde il giocatore ecco Nick Bolton non è quel tipo di giocatore lui sa come placcare davvero molto aggressivo fa male in copertura e ok non è stato perfetto però abbiamo una star tra le mani a Kansas City i Chargers i Chargers sono stati difficilissimi sono stati i penultimi che ho messo gli ultimi appena prima dei Buccaneers e per i Chargers io davvero non sapevo cosa mettere non ne avevo idea dopo aver fissato la depth chart quindi la lista dei giocatori dei Chargers per una quantità di tempo davvero imbarazzante ho deciso di mettere Austin Eckler lo so che Austin Eckler è un giocatore fantastico lo so che se cerchiamo gli analisti gli analisti riconoscono che Austin Eckler è un ottimo giocatore ed è considerato bravo da tutti ma Austin Eckler non è considerato elite secondo me dalla della persona media che guarda il football e secondo me è ora che iniziamo a pensare Austin Eckler come elite perché ha fatto davvero un salto di qualità quest'anno normale per un running back che ha un offensive line davvero migliorata ma pensiamo cosa potrà fare quest'anno con un offensive line ancora migliore perché pensiamo ok l'offensive line è una buona a sinistra adesso si mette a posto adesso cosa farà Justin Herbert Justin Herbert farà il disastro ok ma anche Austin Eckler può fare il disastro con questa nuova offensive line e vi ricordo che Austin Eckler è andato come undrafted free agent quindi non è stato neanche preso non si pensava che avesse il talento per essere preso nei primi sette round del draft e tra l'altro che non fa mai male è anche il tipo di giocatore che riceve e nel complesso ha fatto 1500 yard l'anno scorso che è tanto è tanto per un giocatore solo infatti credo che diminuirà la quantità di snap la quantità di prese che gli richiederanno l'anno prossimo perché è pesante sul giocatore di un running back fare così tante yard i broncos i broncos la scelta più comune per i broncos è stata anche la mia ed è stato Tim Patrick Tim Patrick è un giocatore che se non siete secondo me fan dei broncos o comunque molto interessati in NFL non avete mai sentito nominare invece è un giocatore che è davvero molto importante in squadra e che è un peccato che passi davvero così in secondo piano comunque l'anno scorso è stato molto solido e ci ricordiamo i quarterback che ha avuto Tim Patrick è stato siccome molto solido ha avuto una media di 13,8 yard per presa quindi molto lungo è riuscito a fare più di 700 di 700 yard quindi noi abbiamo un giocatore che non essendo wide receiver 1 o wide receiver 2 riesce a fare tante yard con una media molto alta e soltanto 3 drop quindi ha delle mani sicure un giocatore che secondo me non può fare che crescere quest'anno con un quarterback migliore i Raiders affiniamo la divisione per i Raiders avevo visto che la difesa non mi convinceva andare in difesa è molto comune mettere Josh Jacobs più per il trattamento che gli riserveranno i Raiders si pensa che i Raiders non lo vorranno per il futuro e quindi probabilmente è per quello che è considerato sottovalutato ma io sono andata per Hunter Renfro Hunter Renfro è spettacolare secondo me il modo in cui Hunter Renfro sa creare si sa muovere un route runner incredibile e chi l'avrebbe mai detto così dal nulla comunque è un giocatore che davvero ti sa creare è un giocatore che ha fatto una stagione da wide receiver 1 potrebbe per la stagione che ha fatto potrebbe essere tra i migliori wide receiver di questa di questa lega per quest'anno PFF gli ha dato un voto di 80 che è molto alto un percentuale di prese dell'80% quindi mani molto sicure gli occhi sulla palla e gli è stato lanciato tanto 128 lanci sono tanti specialmente un giocatore che non era stato preso per avere quel tipo di lavoro e un passer rating di Carr quando lancia Renfro di 120 quindi diciamocelo questo è tanta secondo me opera io odoro Carr però è tanta opera di Hunter Renfro è estremamente versato ha giocato nella slot ha giocato all'esterno come wide out riesce a creare separazione molto bene Hunter Renfro secondo me ragazzi è una star ma non soltanto perché ha avuto l'occasione quest'anno perché non c'era nessun altro ma perché davvero ha questo talento andiamo avanti l'AFC Sud i Colts e i Colts volevo tanto metterci Matt Ryan perché secondo me Matt Ryan farà una differenza enorme ai Colts però Matt Ryan non è sottovalutato Matt Ryan è un ottimo quarterback lo sappiamo tutti quindi chi prendiamo ai Colts ho preso Kenny Moore un cornerback un cornerback che è una macchina a placcaggi davvero lui ha un istinto incredibile per la palla e per posizionarsi in modo giusto è davvero molto aggressivo ora capita capita ve lo concedo che manchi i placcaggi questo può cadere a volte specialmente quando quando si lancia fin troppo può capitare che non prenda l'angolatura giusta però qui stiamo parlando di giocatori sottovalutati se fosse perfetto in tutto non sarebbe sottovalutato probabilmente però in copertura fa davvero molto bene riesce a riesce a limitare molto i wide receiver i wide receiver avversari riesce a obbligare il quarterback a guardare da un'altra parte e quindi secondo me è un ottimo giocatore il Texans e qui arriviamo al primo quarterback che ho messo perché ho messo Davis Mills Davis Mills magari non è la star però Davis Mills ha fatto un anno incredibile quest'anno con i Texans cioè rendiamoci conto di chi stiamo parlando stiamo parlando di Texans 2021 chi si aspettava che avrebbe avuto questo record e questo vale per tutta la squadra sicuramente ma Davis Mills non doveva neanche giocare e è entrato e non ha fatto bene però è migliorato continuamente nelle sue ultime partite abbiamo visto proprio un giocatore crescere nelle ultime 5 partite ha avuto un record di 2-3 che può sembrare male ma non per i Texans non l'anno scorso una percentuale di touchdown a intercetti di 9-2 sì una una ratio che non mi viene in mente adesso come traduta comunque 9-2 che sappiamo che Mills ha avuto problemi di intercetti di sicuro è un dato molto migliorato e secondo me Mills semplicemente per come ha giocato quest'anno ha davanti a sé un futuro da backup quarterback ma il backup quarterback che poi volendo mettere a giocare perché ricordiamoci era un rookie che non doveva giocare io sono rimasta molto impressionata dal modo in cui Mills ha giocato i Titans i Titans sono stati difficili perché assolutamente volevo andare in difesa perché questa difesa dei Titans è stata incredibile l'anno scorso e questo giocatore è molto forte perché Amani Hooker lo sappiamo è molto forte però parlando di safety nei Titans ovviamente è passato un pochino il secondo piano quest'anno però ha giocato davvero molto molto bene nel 2021 ha fatto PFF gli ha dato un voto di 83 e in copertura ha fatto davvero molto bene ha concesso un pass rating di 79 che è meno che mediocre per un quarterback avversario e secondo me non è stata la stagione ok i Titans hanno giocato davvero molto bene quest'anno però abbiamo un duo di safety nei Titans che crea la distruzione nelle squadre avversarie i Jaguars i Jaguars vado per una scelta poco popolare Christian Kirk Christian Kirk è stato molto odiato per il contratto che ha avuto però guardiamoci in faccia diciamo Christian Kirk è un ottimo slot receiver è un giocatore che può allinearsi in fondo al campo correre la sua traiettoria lunga ok non ti fa la presa lì da 10 ma magari ti fa quella da 30 riesce a battere con facilità il press coverage quindi quando ha un difensore ancora perché gli sta attaccato riesce ad aprirsi e ti fa le grandi azioni quindi secondo me lo vedremo molto bene unito a Trevor Lawrence andiamo avanti NFC AFC continuo a sbagliarmi AFC East i Patriots per i Patriots ho deciso di non andare in difesa perché in difesa abbiamo un coach difensivo e quindi ho pensato vediamo un po' che cosa c'è c'è Kendrick Bourne un giocatore che si se ne è sentito parlare però nessuno pensa ai Patriots per i wide receiver specialmente in questo momento e santo cielo ha fatto un 14,5 yard per presa in media del 2021 che è davvero davvero molto buono poi non ho potuto non pensare a Michael Onuenu quindi in realtà ho entrambi i nomi che ho messo Michael Onuenu ragazzi è stato è stato incredibile sull'offensive line contato che tra l'altro è stato spostato tra guardia a tackle quindi un giocatore così giovane spostato così tanto spesso fa fatica invece no è riuscito a raggiungere un 87 quasi di voto di PFF l'anno scorso di cui 89 nel bloccaggio per la corsa è un voto incredibile quindi Onuenu lo merita ancora più di Burn però secondo me Onuenu è un pochino più riconosciuto rispetto a Burn quindi prendete quello che volete i Dolphins i Dolphins ero tentata di mettere tua però la verità è che io non sono per niente convinta su tua quindi mi è sembrato mi sembrava piuttosto ipocrita e così sono andata su Giovanna Holland un safety un safety che è il quarto safety è stato il quarto safety nel 2021 per il voto di PFF che ha dato un 85 un giocatore estremamente estremamente versatile che hanno messo anche a volte come slot corner quindi in generale si sa muovere davvero bene nel secondario sa blizzare bene sa arrivare oltre la linea di scrimmage è aggressivo e buono contro la corsa quindi Giovanna Holland segniamoci una stellina nei Dolphins i Bills i Bills i Bills sono stati molto difficili molto difficili perché i Bills avevano davvero una difesa stellare l'anno scorso dire che un dire che un giocatore nella loro difesa è sottovalutato quando c'è una difesa così forte è difficile e nell'attacco Josh Allen i ricevitori comunque secondo me sono tutti molto aiutati da questo da questo quarterback che ci sta dimostrando così tanto e quindi non sapevo non sapevo cosa scegliere e così ho deciso di andare in difesa nel dubbio si va in difesa e ho scelto Taron Johnson perché è un nickel il nickel se pensiamo la formazione tradizionale in in NFL pensiamo due cornerback due safety nel secondario e poi mettiamo quattro linebacker e tre scusate a parlare così tanto quattro linebacker mi diamo tre uomini di linea o viceversa quattro uomini di linea tre linebacker quindi non si pensa come formazione base al nickel corner beh quindi il quinto giocatore del secondario per i beers lo usano tantissimo ha fatto l'ho cercato 85% di snap difensivi l'anno scorso quindi vale la pena di parlarne perché è il miglior nickel cornerback della lega usato tantissimo in copertura è incredibile passareti in concesso 75% percentuali completi concesso a 55% quindi copertura davvero è un uragano e poi è anche stato usato nel blitz e di sicuro ha detto la sua anche lì anche nel pass rush quindi Taron Johnson prezioso per la difesa dei beers i jets per i jets qual è la parte dei jets che ha che ha fatto peggio l'anno scorso la parte che per via di infortuni sicuramente in parte ha davvero fatto disperare i fan dei jets l'offensive line qual è il giocatore migliore dell'offensive line Connor McGovern che è un centro che ha dovuto giocare a guardia perché dovuto a tutti questi infortuni sicuramente non ha potuto fare del suo meglio comunque è stato buono quest'anno non è stato incredibile ve lo concedo però mi aspetto che quest'anno con Elijah Verataker sano come Kai Becton che è sano e in più immagino che sia cresciuto anche come tecnica hanno cercato di migliare la situazione guard prendendo Lake and Tomlinson quindi io mi aspetto che potrà fare del suo meglio quest'anno McGovern a centro e iniziare a mettere anche il suo nome tra i migliori centro della Lega diciamo un top 10 centro della Lega AFC North i Ravens sono una squadra su cui ho fatto tanta tanta fatica perché perché non sapevo chi mettere e alla fine perché secondo me i Ravens hanno molti giocatori molto buoni e non volevo mettere un running back perché i running back dei Ravens secondo me non sono sottovalutati non volevo mettere un wide receiver perché è difficile giustificare un wide receiver per i Ravens in difesa secondo me i giocatori che meritano si conoscono e quindi c'è un nome c'è un nome qualcuno di voi magari ha capito che sto parlando di Lamar Jackson io non sono una fan di Lamar Jackson io credo che io credo che Lamar Jackson sia un tipo di quarterback che come stile non ha futuro in NFL io credo che Lamar Jackson funzioni ai Ravens perché i Ravens li hanno costruito intorno a squadra che è la cosa che ogni squadra dovrebbe fare intorno al proprio quarterback cioè hai un quarterback a questo stile li costruisci a squadra intorno perché rispecchi questo stile il problema di Lamar Jackson secondo me è che davvero crea il disastro in in regular season e lo so sulla mia pelle non credo che questo funzioni anche nei playoff rimane il fatto però che è un giocatore estremamente odiato perché ok è il giocatore che non lancia bene quanto un quarterback dovrebbe lanciare però il modo in cui lui riesce a giocare nei Ravens il modo in cui si è inserito all'interno della squadra il tipo di leader che lui ha dimostrato di essere il modo in cui lui gestisce tutti questi commenti negativi giocando comunque abbastanza bene da umiliarci partita dopo partita credo che dica molto comunque sul fatto che Lamar Jackson non è il miglior quarterback però secondo me è sottovalutato ma perché secondo me non è un MVP Lamar Jackson ma Lamar Jackson è un problema per il difeso avversario un problema enorme e nonostante io non sia una sua fan credo davvero che sia troppo odiato i Browns è difficile dire quale giocatore più sottovalutato tra la mia squadra perché ve ne avrei potuti dire tantissimi che probabilmente non sono sottovalutati però col fatto che sono la mia squadra penso perché non parlano di questo giocatore di più Greg Newsom è un nostro cornerback che in realtà ha giocato solo una stagione ma che in questa stagione siccome ha fatto davvero molto bene a di fianco Denzel Ward che è riconosciuto come uno dei migliori cornerback nella Lega però io sono rimasta sorpresa io non ero contenta al draft quando hanno preso Newsom io dicevo non è il nostro bisogno principale volevo JOK che è un altro sottovalutato secondo me ma vabbè e quindi quando ho preso Newsom io ci sono rimasta un pochino male sì però l'ho visto giocare e penso abbiamo fatto bene a prenderlo perché è un giocatore eccezionale e giocatori e persone che siccome è che non hanno l'opportunità di seguire bene i Browns non hanno visto che giocatore eccezionale sia Newsom e secondo me negli anni prossimi lo vedremo ancora di più ancora meglio gli Steelers e per gli Steelers ho fatto fatica e per gli Steelers ho deciso di scegliere un altro cornerback come per i Browns ho scelto Levi Wallace però non mi piace come scelta perché comunque non è un giocatore degli Steelers è un giocatore dei Beans che è andato agli Steelers e quindi c'è poco da dire non piace però non sapevo davvero che altro mettere mi sembrava la scelta più adatta come giocatore sottovalutato comunque è un giocatore che viene da una difesa fortissima e che per questo ha riuscito a e per questo non gli ha probabilmente non ha ricevuto i meriti possibili i meriti che gli aspettavano però è anche possibile che avendo una difesa così forte intorno magari quello che lui non era in grado di fare lo faceva agli altri e quindi in realtà non è così forte come sembra e quindi diciamo che sono molto indice sulla figura di Levi Wallace però va detto che le sue statistiche sono incredibili nel 2021 ha concesso una percentuale completa del 58 e un passer rating di 78 quindi la difesa di Pittsburgh comunque è ricca di talento quindi siccome può trovare giocatori intorno forti tanto quanto i giocatori dei Beans anche se magari la squadra non arriva a quel livello e credo che quindi potrà fare bene anche quest'anno chiudiamo con i nostri campioni dell'AFC i Cincinnati Bengals e ho deciso di andare per un linebacker perché Trey Hendrickson mi piace tanto però secondo me non è sottovalutato perché tutti sappiamo che Trey Hendrickson è davvero molto forte e quindi ho scelto Logan Wilson Logan Wilson è stata una macchina da placaggi l'anno scorso ragazzi in più ha aggiunto quattro intercetti quindi l'occhio sulla palla c'è è stata un'arma fondamentale nei playoff si vedeva tantissimo il suo il suo contributo in campo ed è un giocatore con la mente fredda il giocatore che quando ne hai bisogno c'è che per quello che i Beans vogliono raggiungere per le loro aspirazioni è fondamentale quindi questi sono stati sono i 32 giocatori che secondo me sono i più sottovalutati squadra per squadra mi sta andando via la voce però non sono più abituata a fare video così lunghi vi ringrazio per aver visto fino a questo punto fatemi sapere quali sono i vostri giocatori più sottovalutati se volete io vi auguro una buona giornata ci vedremo per parlare di fantasy football al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti